Per favore, signor Panda. Ciao, ti piacerebbe un dolcetto? Dammi quello rosa. No, niente dolcetto per te, ho cambiato idea. Ciao, ti piacerebbe un dolcetto? Voglio quello blu e anche quello giallo. No, niente dolcetto per te, ho cambiato idea. Ciao, ti andrebbe un dolcetto? No, vattene! Ciao, ti andrebbe un dolcetto? Li voglio tutti e poi voglio che ne porti altri. No, niente dolcetto per te, ho cambiato idea. Dolcetti. C'è qualcun altro che vuole un dolcetto? Ciao, potrei avere un dolcetto? Per favore, signor Panda. Li puoi avere tutti. Uh, grazie mille! Prego, a me i dolcetti non piacciono. Con pazienza e gentilezza, il signor Panda chiede agli animali che incontra se vogliono un dolcetto. E quasi tutti lo vogliono. Ma quasi tutti dimenticano di usare le parole magiche. Ci sarà qualcuno che merita un dolcetto del signor Panda? Grazie a tutti.